Ciao e bentrovati sull'Appa Consult, sono Aristide Lappa. Stai cercando una soluzione comoda, veloce da implementare per la gestione delle notte spese dei tuoi collaboratori, dipendenti e venditori? Allora sei al posto giusto. Qui utilizzeremo Power Apps e SharePoint per costruire velocemente un'App di gestione notte spese. Andremo a vedere nella particolare un controllo molto interessante e innovativo ed è quello dell'immagine. Quando siamo in SharePoint sono qui in corrispondenza di aggiungi colonna, possiamo aggiungere diversi tipi di colonne e qui abbiamo immagine. Quindi se utilizziamo questo campo immagine vuol dire che possiamo caricare delle immagini e questo siamo a posto. Sono qui in corrispondenza di questo elenco che è spese ricevute e qui vedrai una sfumatura che è molto interessante perché andremo ad avere due elenchi, un elenco che sarà spese ricevute, che sarà praticamente il nostro master data e qui teremo le informazioni principali. e cosa succede se il collaboratore ha diverse spese in corrispondenza di una commissione, di un viaggio oppure di un progetto? A quel punto vorremmo poter salvare diverse ricevute e per fare questo andremo a costruire una specie di tabella relazionale in SharePoint. Sebbene SharePoint non è affatto un database ma potremmo simulare qui un database. Quindi abbiamo spese ricevute, questo è un semplice esempio, potrai riprodurre queste colonne e aggiungere altri campi qualora fossero necessari. Poi quando andiamo qui in ricevute abbiamo appunto il campo che riceverà le immagini. Quindi abbiamo qui titolo, spese riferimento, voce di costo, la nostra immagine andrà salvata qui. Se andiamo a vedere impostazione colonna modifica vedremo che questo campo è di tipo immagine. Faccio qui annulla e la cosa molto importante è questa spesa di riferimento. Come fa a legarsi all'elenco spese ricevute? Si lega l'elenco ricevute perché questo è un campo di ricerca. Andiamo a cliccare sopra, andiamo in corrispondenza di impostazione colonna, modifica e qui abbiamo che questo è un campo di ricerca e bensì è legato al nostro elenco spese ricevute e ci fa visualizzare il campo titolo. Per fare questo non devi fare altro che andare qui aggiungi colonna. Andremo qui a ricercare questo campo ricerca. Clicchiamo su ricerca, facciamo avanti e qui avremo il nome da inserire. Quindi inseriamo il nome del nostro campo ricerca. Andiamo qui inseriamo appunto tipo e ricerca. Diciamo a quale elenco si dovrà collegare e qui scegliamo quale colonna di quel campo ricerca andremo a fare visualizzare qui. Facendo in questo modo crea una relazione tra le due tabelle così appunto potremo legare. Vuol dire che a un progetto se consideriamo che spese ricevute sono i progetti potremo associare diverse spese e qui andremo ad altre impostazioni e qui potremo scegliere i vari campi e addirittura molto importante anche questo scegliere se andiamo ad eliminare il progetto quindi se andiamo ad eliminare le informazioni nell'elenco padre se le relative immagini devono essere qui cancellate e questo potrebbe aver senso perché se cancelliamo il progetto non ha senso che rimangano orfani spese di quello progetto quindi potrebbe aver senso andare ad eliminare e quindi flegare questo sì. Gli elementi di origini non possono essere eliminati oppure l'eliminazione degli elementi di origine comporterà l'eliminazione dei valori dell'elenco e questo eventualmente se rispecchia il tuo caso potrai selezionarlo. Ora andiamo a costruire velocemente il nostro Power Apps quindi andiamo in corrispondenza di spese ricevute e qui in spese ricevute uno dei modi che abbiamo per creare il nostro la nostra app è di andare qui in integra Power Apps crea un'app e qui facciamo semplicemente demo e qui crea questo ci genererà un'app a tre schermate sarà di formato telefono verticale se noi vogliamo un'app responsive dovremo utilizzare un'altra metodologia perciò qui ci stiamo focalizzando sul controllo immagine. Abbiamo la nostra app quindi immaginiamo di essere all'interno di questo progetto quando andiamo a cliccare su questo elemento abbiamo il dettaglio di spese ricevute e qui se andiamo a cliccare su questo elemento per modificare quindi se clicchiamo qui per modificare oppure se clicchiamo su nuovo inserimento se clicchiamo sul nuovo inserimento passiamo a questa schermata quello che vorremmo per esempio in corrispondenza di questa schermata è di poter inserire delle informazioni principali e poi poter inserire delle relative spese quindi immagini di spese a questo punto questo allegato non ci servirà potremo andare a toglierlo potremo ridimensionare questo e qui potremo andare ad aggiungere un pulsante il nostro pulsante lo mettiamo qui quindi se il collaboratore crea un progetto potrà aggiungere delle informazioni quindi qui mettiamo aggiungi ricevute quindi al clic di questo elemento dovrà passare a un'altra schermata quindi andiamo quindi ad inserire un'altra schermata e questa schermata potremmo dire che contiene già il controllo modulo che ci permetterà di collegarci a quell'altra tabella spese ricevute conterà le immagini quando arriviamo qui possiamo dire che quando clicchiamo questa x dobbiamo tornare in corrispondenza della schermata da dove siamo partiti e per fare questo utilizziamo questo back quindi apriamo chiudiamo le parentesi ora ritorniamo alla nostra schermata di edit screen eravamo quindi qui la nostra schermata che abbiamo appena creato che si chiama screen 1 andiamo a mettere screen e qui mettiamo ricevute qui edit form 2 mettiamo frm ricevute ok andiamo nelle di screen nelle di screen abbiamo questo quindi quando clicchiamo su questo elemento cosa vogliamo fare vogliamo accedere alla schermata per l'inserimento delle immagini e quindi qui potremo andare ad utilizzare il navigate e qui navighiamo in screen ricevute e se vogliamo possiamo inserire una transizione quindi quando clicchiamo su questo elemento alt clicco su questo elemento ci passa qui ora in corrispondenza di questo modulo non abbiamo niente quindi dobbiamo andare qui a fare il collegamento e notiamo anche questa novità in power ups di poter scegliere i campi del nostro modulo direttamente da questi menu contestuali invece di andare qui a destra il che è molto comodo ora andiamo ad aggiungere il nostro elenco quindi cerchiamo qui share point share point andiamo qui a selezionare il nostro sito e qui abbiamo ricevute e qui selezioniamo ricevute colleghiamo il nostro modulo in corrispondenza di questo modulo che è quindi collegato vorremmo essere in modalità di inserimento perché qui se andiamo a visualizzare non vedremo niente quindi per poter vedere qualcosa se siamo in modalità di inserimento visto che dovremmo inserire delle immagini dovremo andare a selezionare il nostro modulo form ricevute andare in avanzate e qui cercare mode in corrispondenza di default mode dobbiamo inserire qui new ecco che quando abbiamo inserito questo andiamo qui siamo in modalità di poter inserire le informazioni in corrispondenza di spese riferimento questa è la particolarità che questo campo è il campo di ricerca quindi di collegamento con la tabella principale e vorremmo che questo campo qui fosse automaticamente popolato e che l'utente non dovesse cambiarlo perché è strettamente collegato alla tabella madre quindi dovremmo selezionare questo che è un controllo a casella combinata siccome siamo all'interno di un modulo dovremo andare a sbloccare questo quando l'abbiamo sbloccato selezioniamo questo controllo e andiamo in corrispondenza di default item vado qui a destra che è meglio qua default item selezioniamo questo togliamo parent punto default e qui siccome siamo in una casella combinata spese a riferimento è un record e per inserire un record inseriamo in parentesi graffe questo record è rappresentato da due chiavi una che è id con la i maiuscola d minuscolo due punti e cosa vorremmo inserire qui faremo riferimento alla raccolta che è selezionata quindi l'elemento che è selezionata di questa raccolta e a questo punto chiameremo browse browse gallery browse gallery browse gallery 1 punto selected punto e qui avremo id poi avremo di nuovo browse gallery punto selected andiamo a selezionare questo a copiare qui inseriamo un'altra chiave che è titolo ok e qui inseriamo browse selected browse gallery 1 punto selected punto titolo e qui inseriamo titolo cui abbiamo inserito ho inserito due punti quindi così siamo a posto qui andiamo a chiudere questa parentesi quadra o graffa per meglio dire e qui avremo l'elemento che è selezionato andiamo a vedere se le cose sono fatte correttamente qui ho inserito titolo errore mio perché non funziona dicevo appunto che le due chiavi per correggere anche le due chiavi sono id e qui value quindi inseriamo qui value e a questo punto abbiamo il risultato quindi qui deve essere devi essere attento a selezionare id value che rappresentano questo campo per avere i relativi valori una volta che abbiamo fatto questo possiamo andare in display mode e in display mode potremmo mettere che qui dice parent punto display mode ma potremmo semplicemente mettere qui display mode punto disable quindi andiamo a selezionare questo e qui facciamo display mode punto disable e qui andiamo a commentare tutto quello che segue e a questo punto l'utente una volta che arriva qui non potrà modificare questo controllo a questo punto possiamo andare qui ad inserire il nostro test ma è meglio che lo facciamo dall'inizio intanto ti faccio vedere notare qualcosa di particolare che è che quando l'utente avrà salvato vorremmo che ritogna la schermata da dove è partito e per fare questo in corrispondenza del form dovremo andare ad utilizzare l'evento on success on success qui diremo che se salvi correttamente le informazioni qui cosa devi fare devi fare semplicemente back quindi devi ritornare a stona alla schermata precedente scendiamo qui non avremo bisogno di allegati quindi potremo andare a togliere e a questo punto siamo a posto ritornando al nostro controllo specifico che è dell'immagine vediamo che qui abbiamo la possibilità di cliccare di poter inserire un'immagine ora possiamo andare a testare andiamo quindi in corrispondenza della nostra browse gallery abbiamo questo elemento quindi andiamo a cliccare quindi su più andiamo demo test e qui abbiamo la data di oggi abbiamo questa data di fine se vogliamo è questa e qui andiamo a fare aggiungi ricevuti intanto questo elemento non è ancora salvato quindi andiamolo a salvare salviamo demo test quando abbiamo salvato demo test rientriamo all'interno di demo test all'interno di demo test andiamo a fare modifica e in corrispondenza di modifica visto che abbiamo salvato l'elemento possiamo fare aggiungi ricevute e passiamo qui quindi test ricevute 1 qui non possiamo selezionare quindi possiamo vedere che effettivamente siamo in demo test qui possiamo scegliere la voce di costo scegliamo benzina andiamo ad allegare un'immagine in corrispondenza di questo quindi utilizziamo il controllo immagine andremo a cercare un'immagine qualsiasi quindi inseriamo questa immagine e qui inseriamo ad esempio questo ora andiamo a salvare e quindi quando salviamo qui ci riporterà indietro sulla schermata dove eravamo prima interessante sarebbe vedere qui le immagini le ricevute che sono salvate in corrispondenza di questo progetto di spesa quindi per fare questo possiamo utilizzare una raccolta andiamo qui a più e inseriamo una raccolta orizzontale in corrispondenza di layout inseriamo raccolta orizzontale andiamo qui scendiamo qui in basso ok e possiamo notare come comodamenti abbiamo questi menu contestuali nuovi che permettono di selezionare molto velocemente sia i campi che popoleranno il nostro modello di raccolta sia i dati che potranno essere inseriti o sulla cui base verranno inserite le informazioni qui vogliamo visualizzare le immagini che sono ricevute e qui clicchiamo e vediamo le immagini e qui ti accorgerai che stiamo abbiamo appena creato il nostro progetto ma vediamo alcune immagini che non sono relative a questo progetto come facciamo a vedere le informazioni solo ed esclusivamente di questo progetto dobbiamo andare in items di questa raccolta e in corrispondenza di items andiamo a togliere questo utilizzeremo il filtro quindi inseriremo filter filtriamo la tabella ricevuta o meglio il nostro elenco ricevute e andremo qui a porre una condizione in corrispondenza di testo espressione logica quello che andiamo ad inserire qui è la colonna quindi spese riferimento punto id e qui puoi vedere quello sulla cui base abbiamo impostato la formula in corrispondenza di spese riferimento quando inserivamo l'immagine che dicevo che aveva due chiavi una id e l'altro value quindi qui è id uguale a browse gallery punto selected punto id e qui chiudiamo facendo questo vediamo che in corrispondenza di questo demo test vediamo esclusivamente le immagini immagini che sono correlate e quindi potremo andare ad aggiungere altre immagini quindi se clicchiamo qui potremo aggiungere altre immagini e le visualizzeremo qui sotto ora noterai anche che c'è questo punto esclamativo che appare qui come avviso di delega quindi ci previene che in caso di grandi quantità di dati non saremmo in grado di poterli visualizzare tutti ma siccome molto probabilmente un progetto non potrà mai superare i 500 record minimo per la delega siamo tranquilli e la nostra non è più una preoccupazione spero che questo video ti potrà essere utile per implementare una soluzione del genere ti ringrazio tantissimo per l'attenzione e a presto per altri trucchi per costruire soluzioni veloci con power apps e sharepoint da qui ti saluto e a presto per l'attenzione e a presto